Piacenza e Potenza si preparano a celebrare San Gerardo della Porta. Tante le iniziative organizzate nelle due città per ricordare il patrono del capoluogo Lucano nato a Piacenza nel nono anniversario della morte del Santo. Nella nostra città le celebrazioni partono il 5 maggio al Nicolini con un concerto di pianoforte che vedrà esibirsi il conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza, mentre il 18 e 19 maggio allo stadio Beltrametti le due città si sfideranno in un torneo di rugby. In settembre invece, in data ancora da definire, si terrà un seminario di studi sul tema San Gerardo della Porta da Piacenza, la figura storica nel rapporto con i territori e le comunità. A Potenza invece il 31 di maggio un trio di studenti del conservatorio Nicolini si esibirà nella chiesa di San Michele, mentre il 28 e il 30 giugno sarà il campo da rugby di Macchia Romana a ospitare la partita fra i due capoluoghi. Infine in ottobre in concomitanza con la festa di San Gerardo verrà organizzato un convegno sulla figura del santo.